Salve a tutti, anche quest'anno il 20 di luglio si sta avvicinando, l'estate comincia ad entrare nel suo pieno e arriva con esso anche la festa internazionale degli scacchi in onore della federazione internazionale che è stata fondata proprio in questa data nel 1924. E per festeggiare a Modino anche quest'anno faremo un torneo sull'Iceso, un torneo veloce, bullet, però comunque sarà combattuto perché oltre la gloria quest'anno ci sarà anche in premio per il primo classificato il video commento a scelta, quindi o di una propria partita oppure di una partita di grandi campioni scelta a piacere, chiaramente partite sensate per favore. Quindi se non l'avete ancora fatto registratevi sull'Iceso, è tutto gratuito, unitevi al nostro gruppo sempre sull'Iceso oppure al gruppo Facebook, posterò il link al torneo, quindi per partecipare al torneo sia su Facebook che sul gruppo Ilices. Ok, quindi ci vediamo il 20 luglio alle 9 di sera per un torneo da 45 minuti, quindi per le 10 siete sicuramente liberi. Il torneo sarà un minuto più due secondi, come ormai è consueto anche per i tornei bullet che abbiamo fatto in passato. Quanto pare poi hanno pure tolto il limite dei 30 giocatori per torneo, quindi ci dovrebbe essere spazio per tutti. Comunque chi prima li va prima arloggia, quindi magari fatevi avanti un po' in anticipo, una decina di minuti dovrebbero bastare. Ok, quindi viva gli scacchi, buona festa degli scacchi a tutti e ci vediamo al torneo se non prima. A presto e ciao ciao! Grazie a tutti!